Un'intera famiglia è stata destinataria di provvedimenti restrittivi per atti persecutori nei confronti di una nonna. La Polizia di Stato ha infatti dato esecuzione all'ordinanza di misura restrittiva emessa dal GIP del Tribunale dell'Aquila a carico di 4 persone, di cui 3 componenti dello stesso nucleo familiare, indagate in concorso per atti persecutori, danneggiamento e lesioni personali, nei confronti di una donna alla quale in passato il capofamiglia aveva rivolto delle molestie sessuali. Le prime azioni vessatorie iniziarono nel periodo successivo al terremoto dell'aprile 2009, quando l'uomo aquilano indirizzava nei confronti della donna attenzioni a sfondo sessuale, tanto che nell'aprile del 2013 l'uomo era stato sottoposto agli arresti domiciliari per atti persecutori e violenza sessuale. Da allora sia l'uomo che la moglie e sua figlia aquilane rispettivamente di 50 e 20 anni hanno messo in atto degli atteggiamenti nei confronti della vittima e della sua famiglia, che andavano dagli atti persecutori al danneggiamento con liquido altamente corrosivo delle autovetture, al danneggiamento delle abitazioni e veri e propri pedinamenti, appostamenti e in alcuni casi aggressioni fisiche. La famiglia della donna vittima aveva subito inoltre anche l'incendio della casetta di legno dove si trovavano depositati tutti i mobili della casa distrutta dal sisma. Le indagini si sono svolte con intercettazioni telefoniche ed ambientali, comparazioni e riscontri dei dati acquisiti. Da questo è emerso anche che l'uomo nell'attività persecutoria nei confronti della donna era stato aiutato più volte anche da un suo amico, un altro aquilano. E così il GIP del Tribunale dell'Aquila ha disposto gli arresti domiciliari per l'uomo, ritenuto responsabile di atti persecutori e danneggiamento in concorso, e il divieto di avvicinamento alla vittima e ai prossimi congiunti per sua moglie e sua figlia. L'obbligo di dimora per l'amico. È slittata l'udienza preliminare per discutere la richiesta di processo della Procura della Repubblica dell'Aquila nei confronti di sei indagati con l'accusa di turba divatasta nella giudicazione della prima parte, 33 milioni, del megapalto per la realizzazione di nuovi sottoservizi del centro storico con la costruzione del sottosuolo di tunnel intelligenti che reagrupperà Rete Idrica, Elettrica, Fognaria e Internet. A causa dell'indisposizione di uno delle gare coinvolti a Tiglio Cecchini, le richieste verranno discusse a partire dal prossimo 11 ottobre dinanzi al gruppo Giuseppe Romano Gargarella. La gara è stata appaltata dalla Società Idrica del Comprensorio Gran Sasso Acqua nel suo ruolo di soggetto attuatore. Ad aggiudicarsi l'importante commessa è stata la Società Consortile e la responsabilità limitata SCARL, Asse Centrale, composta dalla Ravennate Acmar come capofila e dall'Aquilani Taddei e del Fraer che si erano costituite i nati. La richiesta di rinvio a giudizio è stata depositata dal pubblico ministero Stefano Gallo nei confronti degli imprenditori Alfaro Zaccaria, Acmar, Gianni Frattale e di Fraer, Danilo Taddei, Taddei SPA, Aurelio Meralagni, direttore degli AGSA, presidente della commissione giudicatrice e attualmente responsabile unico del procedimento, degli ingegneri Piralberto Properzi e Flavio Lombardi, componenti della commissione a giudicatrice. Per quanto riguarda il settimo indagato, l'architetto Sandro Annibali, il PM ha invece chiesto l'archiviazione dalle accuse. Secondo le accuse formulate dal PM Gallo, ci sarebbe stato un favoritismo da parte della commissione che ha giudicato i lavori verso l'associazione temporanea di imprese che ha vinto l'appalto rispetto ad altre ditte che sono state escluse. Tra queste la seconda classificata, Alma Cis SRL, dell'imprenditore Enrico Marramiero, già presidente di Confindustria Pescara, che aveva inoltrato ricorso al tribunale amministrativo contro l'aggiudicazione, perdendolo. Proprio una di queste, stando a quanto appreso, si sarebbe rivolta alla procura. Quando è troppo e quando è niente, dice l'adagio. Nella stessa notte, infatti, all'Aquila, due manifestazioni di uguale matrice, previste per il 30 settembre. La Street Science dell'Università dell'Aquila è la Notte Europea dei Ricercatori, che si svolge in cinque città d'Italia, compreso il capoluogo d'Abruzzo. Sebbene non siano mancate la sorpresa del pubblico e qualche stilettata tra gli addetti ai lavori, le due manifestazioni comunque si faranno insieme in buon ordine, così come è avvenuta la presentazione al Comune dell'Aquila. Street Science, la ricerca al centro dell'Università dell'Aquila, ha l'obiettivo per un giorno e una notte di far diventare scienziato chiunque. Dalle 10 alle 24 l'appuntamento, promosso dalla Commissione Europea, vuol far uscire dal chiuso dei laboratori e delle biblioteche il lavoro di oltre 200 ricercatori dell'Università. Eventi dedicati alla divulgazione scientifica, che comprenderanno laboratori per ragazzi e adulti, conferenze, mostre interattive, gare, spettacoli teatrali e performance artistiche. Una delle tante novità di quest'anno sarà la partecipazione nel ruolo di protagonisti dei gruppi di studenti degli istituti scolastici abruzzesi di secondo grado, le cui proposte hanno vinto il concorso Ricercatore per un giorno. La Notte Europea dei Ricercatori, Sharper, si svolgerà all'Aquila, ma anche ad Ancona, Perugia, Palermo e Cascina. Anche in questo caso le vie dell'Aquila diventeranno lo scenario di spettacoli, conferenze, dimostrazioni, laboratori, esperimenti scientifici per avvicinare il grande pubblico al mondo della ricerca. Sharper si rivolge infatti a grandi e piccoli e costituisce l'occasione per informarsi divertendosi e per incontrare i ricercatori nei luoghi popolari della città. Tra le novità di quest'anno, alla Villa Comunale, lo Star Party, la proiezione all'interno del planetario che partirà già da giovedì, osservazioni del cielo notturno poi venerdì 30 settembre dalle ore 20 alle ore 23. Altra novità sempre prevista per venerdì 30 settembre all'auditorium del Parco a partire dalle ore 19, lo spettacolo L'Universo è servito, i racconti di fisica in cucina, con lo chef stellato William Zonfa e Fernando Ferroni, presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, anche appassionato di cucina. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.